ciao ragazzi eccoci in un nuovo video oggi vi parlo del nuovo programma che sto seguendo sono sceso ancora con le calorie sono arrivato a non ve lo dico sono fatti miei alzato le proteine vabbè abbassato grassi e carboidrati e ho cambiato protocollo anche di allenamento sono allenamenti più leggeri per mantenere forza e massa più che altro che si dividono in parte alta e parte bassa su quattro giorni primo giorno di forza sulla parte alta e secondo sulla parte bassa terzo ipertrofia parte alta quarto ipertrofia parte bassa nulla di esagerato con un po di cardio alla fine e volendo posso mettere tra i due giorni di forza e due giorni di ipertrofia un giorno di cardio un po come gira a me nulla queste sono le novità ah sì l'uno l'uno che c'è ritrovo con tutti gli altri youtuber probabilmente ci sarò anch'io perché forse accompagno carolina però come cioè non come youtube dai ci siamo capiti volevo portarvi anche in questo video un workout con un marco il mio big marco ma non ve lo porto perché marco ieri mi ha paccato io sono andato prima in palestra nelle mie parti non ho registrato niente quindi per portare qualcos'altro vi porto un unboxing del pacco che appena arrivato tra l'altro il corriere mi ha chiamato esatto momento in cui mi ero mezzo tormentato quindi inizialmente non capivo con chi stassi parlando perché non avevo il numero infatti penso mi abbia preso per coglione e vabbè ho ordinato da progis ho ordinato da progis apriamo e stavolta non l'avevo ancora aperto perché non ho avuto al tempo appena arrivato ho detto già registriamo non gli ho fatto workout gli portano un box anche quelli che gli unboxing mi piacciono sempre ho ordinato da progis forse ho detto due secondi fa vabbè e cosa ho ordinato di interessante c'è a parte questa roba che adesso vi faccio vedere non me lo ricordo anche io perché di mio non c'era nulla di particolarmente utile allora ho ordinato polero in quantità che è una cosa una quantità fuori dal mondo ne ho ordinati circa una quarantia cinquantina poi vabbè ho ordinato vitamina D3 un pacchetto è di un mio amico gli altri due sono miei adesso la prendo la macchina sempre avendo appassato ancora le calorie cioè fa poco l'integrazione però costava poco ho detto c'è la metto dentro che non può essere utile poi sempre per me ho preso due barrette della grenade mi hanno dato in omaggio anche altre barrette anzi adesso faccio un taste test no non lo faccio troppo gay ok poi vabbè altri bolero no ho preso sti cosi qui tipo bevando al caffè proteica praticamente è uno shaker di proteine al gusto caffè in plastina boh costa un poco adesso ce la proviamo magari sono buone me la devo ZMA del mio amico da 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 taurina del mio amico l'ottamina del mio amico quanto impeccatore e non è che abbia preso nulla di particolare mi hanno dato anche un paio di barrette in omaggio ciao faccio il taste test di questa allora la forma perde già pezzi la forma è quella di una barretta il colore è marrone l'odore è di marrone è schifo è niente schifo cioè anche il sapore è di marrone vabbè lasciamo un scusca sa di cince beh ragazzi io vi saluto vi ho fatto vedere tutto quello che ho preso probabilmente vi interessavano ho ancora capito il motivo e mi fa piacere che guardiate i miei video se stiamo crescendo spero di divertirvi se non vi diverto mi dispiace e detto ciò io vi saluto ci vediamo in un prossimo video e forse se viene qualcuno o al raduno ci vedremo l'uno in caso vogliate come voce di video ciao ragazzi ah per chi non sapesse cosa sono i bolero no perchè poi poi mi dico che non spiego le cose prendo un gusto a caso ho paura di pentirmi banana e fragola e cosa sono? sono delle bibite a zero calorie hanno dentro anche vitamina c con tutte le arome naturali tutte quelle cazzate lì che vanno di moda adesso e vabbè lo metto in un litro e mezzo d'acqua qui non so quanta ce ne sia però anche se ce ne metti un po' di meno un po' di più di vabbè dipende quanto lo vedo c'è un mio amico ne mette mezza bustina in due litri a me fa pagare lo versi shakery che bene buono o banana e fragola? niente ci volevo farvi sapere come come si fanno e prendesse queste cose perchè poi eh e basta vi risaluto o forse lo metto in mezzo al video e magari taglio tutta sta roba ciao ragazzi